lunedì dell'angelo il vescovo brugnotto che sia un giorno in cui creare relazioni per crescere pranzo in famiglia, gite fuori porta, i vicentini rispettano la tradizione per il ponte di Pasqua la funzione delle campane nel triduo pasquale dal silenzio del giovedì santo all'annuncio della Pasqua scuola primaria di polegge, restyling nel segno della sicurezza con porte e serramenti nuovi torri di Quartesolo, ecco il bosco urbano, mille piante a dimora per il polmone verde della città buonasera a tutti voi telespettatori, oggi è lunedì dell'angelo dopo la Pasqua ecco il messaggio del vescovo di Vicenza, Monsignor Giuliano Brugnotto a tutti i telespettatori di Rete Veneta il lunedì dell'angelo ci consegna ancora una volta l'esperienza della Pasqua perché si prolunghi nella nostra vita, l'ottava di Pasqua è un tempo molto bello perché quelli che sono appena stati battezzati tradizionalmente nella chiesa vivono l'inserimento nella chiesa partecipando ogni giorno all'Eucaristia, cioè a quel segno nel quale il Signore Gesù ha voluto che noi sperimentassimo ancora la sua Pasqua per tutti i tempi e allora anche Pasquetta che possa essere un giorno di tranquillità, di riposo per tante persone sia anche il momento di ricreare relazioni belle, positive che ci aiutano davvero a crescere E a Pasqua e oggi Pasquetta, Vicenza ha accolto cittadini e turisti in visita per la tradizionale gita fuori porta Diciamo che in questi giorni abbiamo avuto, comunque abbiamo notato un aumento, un incremento del turismo, il tempo non è stato dalla nostra parte quindi purtroppo è stato un po' quello che un po' ha frenato diciamo, certo che comunque si spara sempre anno dopo anno un miglioramento continuo comunque è sempre più una Vicenza sempre più accogliente Per Vicenza ci vorrebbero più attrattive per le famiglie, per le persone anche di una certa età Comunque è un aspetto che va sottolineato secondo me È una città bellissima sicuramente, però bisogna fare di più Sì, piacerebbe che ci fosse una mostra come c'è adesso a Padova, che c'è Monè sicuramente lì ci sono numeri che girano molto di più che qui da Vicenza Speriamo che arrivino un po' dei turisti perché come ogni anno la Pasqua non è che possiamo confrontarla con Natale perché spesso e volentieri si va anche via dalla città, allora speriamo dei turisti La città si è preparata, forse un po' poco però si è preparata Dove si potrebbe migliorare secondo lei? Ma secondo me bisognava organizzare qualcosina in più per l'accoglienza dei turisti che stiamo aspettando in città Magari con più mercatini sparsi nelle varie piazze Ecco, avrei fatto forse una cosa così un po' di più o degli eventi anche per i bambini perché il bambino, se porti il bambino in centro, porti la famiglia in centro I musei hanno i laboratori per i bambini e così bisognerebbe che fossero un po' distribuiti in tutta la città La cultura non basta, come ad esempio i musei vengono adoperati per attirare la gente non bastano questi qua, bisogna che ci siano delle altre attrattive per le famiglie, per i bambini e anche per i gruppi di ragazzi o ragazze che vengono in centro Si può sempre migliorare, però la parola d'ordine è eventi importanti perché questa piazza ha bisogno di qualità degli eventi non solo di eventi, ma qualità di eventi quindi ben vengano mostri importanti, ben vengano manifestazioni che possono attirare gente comunque l'importante è che ci sia la qualità perché per altre cose ci sono altri siti, il Campo Marzo, altri posti insomma Io spererei di avere un giorno una bella mostra, qualcosa in Basilica sul Tiepolo che ha delle opere meravigliose nel Vicentino, sul Canova cioè tutte cose, tutti artisti molto importanti e molto apprezzati ecco il mio sogno è vederli qua in Basilica E anche oggi, nonostante le incertezze del meteo per i vicentini la tradizione va rispettata accanto alla religiosità, tanti hanno scelto il pranzo in famiglia Pasqua e Pasqueta sono tra le festività dell'anno più attese e celebrate anche dai vicentini, come per il Natale, al fianco delle cerimonie religiose le giornate sono dedicate allo stare in famiglia e con i propri cari ecco che il pranzo diventa l'appuntamento più importante accanto però anche al picnic e alla gita fuori porta un programma tradizionale che ancora viene sostanzialmente rispettato dai vicentini La Pasqua di quest'anno io la festeggio a casa con tutta la mia famiglia è un momento di gioia dove figli, nipoti, ci troviamo tutti per festeggiare è un momento importante sotto l'aspetto della nostra religione la religione cattolica ed è un momento importante di festività in famiglia Facciamo antipastino, quindi mio papà è molto bravo al caminetto quindi penso che faremo gli arrosticini che sono molto buoni e poi con l'occasione, essendo che ho il mio compagno che è macellaio prende un po' di tutto e mangiamo un po' la carne alla braccia che è sempre buono, ecco sì poi antipastino, colomba, dolce, quindi insomma un po' di tradizione così ogni anno cambia in realtà, ecco Mangeremo tutto in famiglia, poi pregheremo per che questa vita sia normalissima questo cittadino deve stare un po' rilassato in tutto noi pensiamo alla fede e al gran Dio che ci aiuti Si festeggia con i familiari in casa devo fare da mangiare, quindi per i miei figli, per il mio marito e per, sì, in famiglia comunque, ecco, si mangia in famiglia Quest'anno è una Pasqua anche particolare, no? a livello sociale, cosa chiedere magari con le preghiere perché ricordiamo comunque una festa religiosa Allora, beh, salute sicuramente, un po' di serenità perché in questi periodi, insomma, ce n'è bisogno Beh, guardi, la Pasqua è sempre una festa importante sia sotto un profilo commerciale per le attività in genere ma dopo è anche una bella festa perché è un momento in cui noi tutti ci ritroviamo in famiglia Ecco, qui c'è un piatto tradizionale, un'iniziativa, qualcosa una gita fuoriposta, il picnic c'è qualcosa che si ripropone magari che gli piacerebbe fare? Beh, augurandoci che il tempo ci dè una mano però penso che una bella passeggiata al mare possa essere molto fortificante E uno dei simboli della Pasqua sono sicuramente le campane in questo periodo di triduo pasquale hanno una funzione particolare Scopriamo quale Campane a festa uno dei simboli più rappresentativi della Pasqua ma non tutti sanno che a Pasqua non si dice tanto che suonano le campane ma che si sciolgono le campane e il motivo ce lo spiega proprio uno dei due campanologi studioso ed esperto di campane sia dal punto di vista storico sia della composizione sia del suono presenti in Italia Vicentino è da sempre appassionato di quella voce la campana che in questo periodo annuncia la gioia della risurrezione campane che restano in silenzio per due giorni dal giovedì al sabato e una volta per evitare che il vento facesse oscillare i bronzi e le facesse rintoccare se ne legavano le corde per poi scioglierle ad annunciare l'arrivo della Pasqua dalla messa in cena domini del giovedì sera quindi giovedì santo le campane suonano un'ultima volta le corde vengono fisicamente legate e da lì c'è un grande silenzio un grande rispetto tutto il venerdì le campane sono mute non suona niente fermo completamente e anche il sabato il sabato sera però alla messa al gloria la risurrezione le campane vengono liberate quindi un senso di grande gioia e poi la Pasqua i cui protagonisti e traduttori dei messaggi di gioia in musica sono loro i campanari 2500 in tutto il Veneto nel Veneto siamo circa in 2000-2500 naturalmente la mattina di Pasqua c'è da assicurare il servizio in tutti i campanili per cui una giornata dove si corre da un campanile all'altro si danno questi grandi sensi di gioia questi grandi segni di gioia nuove porte e serramenti alla scuola primaria di Poleggie vediamo un restyling nel segno della sicurezza nella scuola primaria Paiello di Poleggie vengono rifatte le porte sulla facciata principale oltre a tre serramenti della biblioteca al primo piano un intervento da 16.000 euro molto atteso dalla scuola che ha richiesto anche l'autorizzazione della sovraintendenza essendo la palazzina sottoposta a tutela culturale un plesso molto antico che ha bisognava di lavori importanti l'amministrazione ha promossi e stanno terminando per dare anche il giusto contenitore a questa proposta educativa o didattica davvero particolare da molti anni Poleggie è un punto di riferimento didattico per un sistema che mette al centro della proposta educativa il bambino e la bambina con una serie di iniziative dalla scelta di non avere dei testi libri di testo definiti ha una didattica che si ispira al cooperative learning ma anche ha una promozione forte della lettura e non a caso siamo in una biblioteca molto bella non a caso abbiamo una cassetta pubblica di scambio libro in piazza proprio di fronte alla scuola ma anche con la responsabilizzazione personale dei bambini e delle bambine che fanno dei contratti di apprendimento con il gruppo classe e con gli insegnanti l'ammalloramento dei portoni principali si è aggravato negli anni l'ultimo episodio l'intrusione dei mesi scorsi con il furto delle chiavi che ha comportato la sostituzione delle serrature ma la scuola frequentata da 104 bambini suddivisi in sei classi andava adeguata da tempo stanno terminando i lavori di riqualificazione degli infissi della biblioteca Raffaella dove ci troviamo adesso ma soprattutto dei portoni fronte scuola del plesso e siamo felici come amministrazione di poter aiutare a rendere l'immobile sempre più bello e sicuro ci spostiamo a torri di Quartesolo dove nasce il bosco urbano noccioli aceri betulle solo per citare alcune delle varietà tra alberi arbusti che andranno a trasformare un'area di 6500 metri in un'oasi verde vicino al parco pubblico di via Borsellino si tratta del bosco urbano di torri di Quartesolo con le sue nuove 1120 piante che serviranno ad aumentare la biodiversità migliorare la qualità dell'aria e contenere le ondate di calore l'obiettivo è di creare una fascia boscata un polmone verde una fascia boscata che serva per diciamo che il cambiamento climatico imporrebbe di appunto di creare queste fasce boscate questo sarà proprio un bosco non sarà un parco pubblico l'abbiamo già il parco pubblico e questo sarà utile per risanamento dell'aria per per fare in maniera che qualche volta piova ma piova in maniera più regolare rispetto a quello che sta succedendo in questo momento e per limitare le ondate di calore perché c'è da tenere conto di questo d'estate noi abbiamo sempre più spesso ondate di calore quindi le fasce boscate servono a mitigare questo effetto il bosco urbano di torri assolve anche ad un'altra funzione quella di bacino di laminazione con questo spazio otteniamo due risultati abbiamo creato un bacino di laminazione per salvaguardare due quartieri il quartiere primavera principalmente e anche il quartiere betulle e una parte dell'area piramidi ecco quindi questo è un bacino che assorbe i picchi di piena dello scolo di questi quartieri insomma e quindi nello stesso momento è bacino di laminazione ma anche bosco urbano è tutto per questa edizione di TG Vicenza io rinnovo ancora una volta gli auguri di buon lunedì dell'angelo e vi auguro un altrettanto buon proseguimento di serata sempre su Rete Veneta grazie a tutti